Buongiorno a tutti, oggi è martedì 4 gennaio, sono le 9.44 e che cosa avevamo detto ieri quando abbiamo visto il balzello che ha dato la violazione dello swing? Che avremmo continuato la salita e infatti siamo andati a toccare i 27.9. Abbiamo fatto un massimo con un candelone rosso dei 27.907. Qui inizia la parte importante, perché se avete scortato bene ieri, che cosa ho detto? O si proseguirà a salire per altri 2 t-3 inversi, oppure c'è anche l'opzione più vigliacca, tra virgolette, ovvero tra un ciclo mensile inverso, 30 giorni, da massimo, minimo, massimo, cicli a U, e un altro mensile inverso, di che portata può essere un raccordo? Perché, visto le tante finte che stanno facendo, non ho voglia di essere colto in preparato, e mi preparo ormai, in chiusura di qualsiasi ciclo di una certa portata, all'eventualità peggiore, ovvero al raccordo. 1, 2, 3, 4, già comunque sono interessanti, per cui prima di operare oggi per alto giornate con scarsi volumi, guardate, ieri è stata abbastanza noiosa come giornata fino al finale, prima di muoverci valuteremo ovviamente gli swing, esattamente come quello di ieri, ci ha permesso di dire non andiamo short, ma continuiamo ad andare long, e ha portato bene, direi, anche in questo caso facciamo le riflessioni sia sull'inverso che sull'indice. Prima di tutto, il quarto t-3 inverso, direi che può essere proprio chiuso qui. Bisognerà vedere, se questa non è soltanto una candela di finta per attirare l'attenzione e sviarla da altro, oppure se riusciremo ad avere le condizioni sufficienti per che cosa? Per andare a chiudere magari un primo t-1 a tre tempi di indice con una discesa di un certo tipo, magari fino a qua, prima di ripartire. Anche perché adesso utilizzeremo se non sarà un raccordo, ribadisco, se non sarà un raccordo inverso in questo caso, utilizzeremo la media mobile a 50 periodi come linea di supporto, ovvero se l'andiamo a toccare potrà avere senso valutare dei long, se non saranno stati violati determinati screening. Questo in ipotesi di nuovo t-inverso, che è arrivato soltanto a 4 giorni su minimo 6 in media 8, quindi prosecuzione di salita. In caso del raccordo invece dobbiamo fare attenzione alla discesa, perché sarà molto più forte e a quel punto significherà partenza di nuovo mensile inverso, quindi non vogliamo rimanere long con un mensile inverso che parte e che ci spara giù, giusto? Ok. Peraltro, facciamo anche sempre il discorso di indice. Qui può essersi serenamente chiuso e segniamocelo già subito il primo, il terzo t a 7 giorni possibile e da qui può essere iniziato il 1, 2, 3 giorni, con 3 giorni, il quarto t, il quarto ciclo settimanale. Mediamente un mensile e da qui è partito anche un trimestrale qualcosa di più, un mensile ne ha almeno 4 di di settimanali, di cicli t e quindi attenzione perché a un certo punto dovremmo andare a chiudere che cosa? Dovremmo andarlo a chiudere il nostro mensile di indice e ciò richiede perlomeno che cosa? Un sottociclo di 3 gradi inferiori di bassiste. Quindi attenzione a questa salita che potrebbe essere un raccordo. Ho detto veramente tutto in maniera molto esplicita, spero che apprezziate questi primi giorni dell'anno in cui vi racconto in maniera ancora più semplice rispetto che al passato che cosa può succedere. Operativamente per oggi ribadisco vediamo dove vanno entro anzi dalle 10.01 in avanti se vanno a farsi una chiusura sulla media mobile e se eventualmente ciò ci darà uno spunto per valutare un raccordo o un settimanale inverso. Per quanto riguarda il DAX situazione un po' differente ma sostanzialmente non particolarmente differente qui abbiamo avuto un massimo a 16.073 abbiamo avuto quindi un terzo T settimanale T-3 inverso scusate terzo ciclo giornaliere inverso ribassista e quindi rialzista di prezzi può aver chiuso prima? Qui può aver chiuso? No qui può aver chiuso no direi che possiamo mettere tranquillamente iniziare a mettere un bel punto di domanda qua per la partenza dell'inverso per quanto riguarda il secondo T-3 ovvero il secondo ciclo giornaliero di indice può essersi fermato qui in questo caso sì perché il DAX dura meno 21 bar e gli bastano qui può esserci stato un raccordo prima della partenza dell'effettivo terzo T-3 ciclo giornaliero a questo punto le indicazioni sono le medesime che ho già dato per quanto riguarda il MIB dobbiamo fare attenzione a che cosa? perché in questo caso che raccordo rischiamo tra un ciclo e l'altro? andiamo a vederlo sul grafico a un giorno qui manca sempre l'ultima candela anche in questo caso abbiamo un mensile che è andato a 27 più 4 con oggi anche in questo caso si rischia il raccordo inverso siamo anche in questo caso all'ottavo al terzo ciclo giornaliero partito forse il quarto da qua e dobbiamo andare a un certo punto a chiudere il nostro mensile e siamo arrivati con oggi a più una candela a 23 barre su 24 per cui ecco si rischia di nuovo di dover iniziare a scendere sia per la chiusura del mensile che per la partenza di un nuovo mensile inverso che spinge verso il basso chiusura di indice uguale discesa partenza di nuovo inverso ciclo U uguale di nuovo spinta verso il basso quindi attenzione anche in questo caso alla media mobile a 50 periodi per il resto i livelli di algoritmo li darò come al solito al gruppo che mi dedica più tempo in questo modo avremo target estremamente più preciso rispetto a una media mobile vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata la mia lo sarà sicuramente perché ieri Matrix tra le altre cose Matrix 4 è stato veramente veramente un gran film molto diverso dagli altri ma con tanti spunti di riflessione e metà cinema una cosa che adoro buona giornata a tutti grazie